Musica Se un uomo non è interessato a te, non vuol dire che tu non sia una persona interessante Che tu non valga niente, che tu sei una merda o una sfigata Che magari lui è un super figo, che ti sei perso all'uomo migliore del mondo E che nessuno ti vorrà mai No! Devi rovesciare il modo di vedere certe cose Se lui non ti vuole, è semplicemente perché non è interessato Perché ha altri gusti È lui che si perde il meglio Pensa che è così poco sveglio, che non sai neanche riconoscere le tue evidenti qualità Ma che se ne vada a fanculo E chi se ne frega Problemi zero!